In diretta su Radio Fantasy, Radio Fantasy, la radio a pezzi. Puoi dire una cosa, Max Millan? Puoi abbassare la radio che sentiamo l'eco? La mia donna in questo momento vuole ascoltare la radio, quindi sono impossibilizzato nel farlo. Ma sei in auto? Sono in auto che sto facendo un amore. Una buona domanda importante. Quale delle tue donne? La mia destra. Era per sapere quale delle tante. Allora, aspetta un attimo, perché Max... No, però Maxi, devi fare un favore, devi scendere dall'auto. Come state? Benissimo, benissimo. Dovendi, Reo! Dovendi, Reo! Non c'è più! Non c'è più! Gli hanno sparato! L'ha eliminato, Reo! Max, perdonami tanto, ma allora è vero che tu fai un doppio lavoro? Praticamente tu fai il DJ e poi fai, visto che è un piacere ascoltare del telefono, la chat, la sexy chat dentro le auto con il cellulare. Assolutamente sì! Veniamo a noi, veniamo a noi. Abbassa per cortesia la radio, se no con l'eco viene fuori un disastro, veramente, grazie. No, è che forse cerca la vibrazione migliore per far contenta la sua donna. Momentino, per cortesia, c'è la telefonata. Un po' di serietà, dai. Ecco qua. Parleci un po' delle tue ultime produzioni, sei un DJ producer, vero? Mi sembra di seri, non me lo ricordo. Non me lo ricordo. Allora, parleci un po', so che stai diventando famoso in Spagna, però anche in Italia con le tue produzioni dance, insomma, ti stai muovendo molto molto bene. Comunque con le spagnole il più bravo era Rocco Sifredi, eh. Basta! Posso venire a raggiungervi? No, allora, parliamo un po' di cose serie, dai, vai. No, no, catteggiamo un po', si può dire che catteggiamo? Si può dire, si può dire. Ok. Adesso bisogna chiedere al moderatore, vediamo. E quindi? Ci vuoi parlare delle tue produzioni? Si, cosa ho detto a sapere? Cosa hai prodotto? Cosa hai remixato? Come ti stai muovendo? Abbiamo un DJ producer al telefono, vogliamo saperlo. Ok. Allora, la produzione più forte in questo momento, spero che continui così, è la produzione che ho fatto con la label di Nicola Fasano, la Joey Rogers. E sono in questo momento in Eurovision, nella radio DJ spagnola. Nella radio DJ spagnola, come si chiama? Radio DJ spagnola, esatto, la Bambo Chart. La Bambo Chart. E questa settimana siamo al quattordicesimo posto. Beh, una buona posizione. Sì, ottima posizione. Una buona posizione, sperando che il tempo si prolunghi. Beh, certo. Comunque è un genere house il tuo, giusto? Diciamo che è una cover di Gadget so many times, l'avete già fatto ascoltare? No, dopo la tua telefonata chiaramente la facciamo sentire anche i nostri ascoltatori. Molto bene, molto bene. È un pezzo che, diciamo, è stato in preparativo per un annetto. Beh, ho fatto una grande ricerca per trovare questa voce, questa voce meravigliosa, una ragazza di Torino. Sì. È Ria. Ce l'abbiamo fatta e poi è uscito. Al momento non è ancora in vendita, quindi tutto quello che sta facendo in questo momento è in promozione. È in promozione. Sì, è in rotazione in parecchie radio spagnole, russe. Ecco, noi abbiamo qua, hai parlato un po' di radio DJ spagnolo, abbiamo l'Albertino spagnolo. Eccolo qua, te lo voglio presentare, eccoci. Buonas tardi, mio hermano Max Millan. Io sono Albertino di Spagna. Come stai? Tutto bene, mio hermano? È incantato, è incantato, è incantato. Ombre, la tua canzione sta andando molto, molto bene. Non è problema, è grande. Ma in Italia, cosa fai in Italia? Oltre a fare gli aperitivos a 19,90 euro in giro per le... per los bars. Io non intendo, io non intendo nada, io non intendo, aperitivos, io non intendo. Tu lavoras, mi han detto, al Morocco. È vero che tu vienes al Morocco? Sì, al Morocco ogni tanto succede, ogni tanto succede. Beh, dai, a parte gli scherzi, vuole aggiungere qualcosa ancora, Albertino? Ditto tutto. Ditto tutto. Allora, a parte gli scherzi, dove ti possono contattare, Max? Dini caro. Dove ti possono contattare, Facebook, MySpace, Twitter? Che cos'hai? Un sito, internet, qualche cosa? Facebook, MySpace e Twitter. MySpace e Twitter, ok, vabbè. Tutti, tutti. Certo, tutti praticamente. Benissimo. Noi ti lasciamo far l'amore, grazie. Adesso partirà la tua canzone remix, so many times. Ti ringraziamo. Scusate, Max, ma guarda che è duro a fare l'amore da Trieste in giù, eh. Ma, di fatti sono a Portuguaro. Posso svelare un segreto, Max? No, non puoi. Come no? Sono chi sei? Gian Pietro. Gian Pietro chi? Io. Gian Pietro, Gian Pietro. Senti, ma... Sì, esattamente esatto. Senti, ma... Fratello, come stai? Bene, bene. Molto, molto bene. Come sta la famiglia? Molto bene. Bene, bene. Bene. Ecco. Senti, ma abiti ancora a Venezia dello Stella, tu? Senti, ma l'era una cazzata. Senti, ma... Senti, ma... Max, io ti voglio bene. Ti voglio bene, io ti voglio bene, ok? Senti, questi casini. Ci dobbiamo salutare, purtroppo ci dobbiamo salutare, dai. Ti invitiamo dal vivo però qua in radio, va bene? Sì, ma non mi sono tanto divertito senza mi divertire, eh, ragazzi. Eh, per questo, per questo. Esatto, esatto. E sei tu che non mi hai venuto, Igor, eh? E come? E sei tu che non mi hai venuto, Igor. No, no, dai, io ti invito la prossima volta, dai. Va bene? Prossimamente. No, è che oggi c'era Martina, quindi abbiamo scelto lei al posto tuo. Sì, Martina. Martina è un'amica. Bene, ciao Max, è già partito so many times. Pezzi. Su Radio Fantasy.